Buongiorno a tutti, anzi buonanotte di sta l'ora. Allora sono rientrato dalla seratina, stasera veramente la serata ncs, non ci siamo, non ci siamo, parte la pizza, anzi le due pizza e il profiterollo che ha fatto l'ibidine. Devo dire che la serata è stata l'offia, speravo, una via di mezzo tra quella di settimana scorsa che, diciamo, le coronarie, perché c'era tanta bella robettina, quindi gli occhiettini facevano sniaus, partivano per la tangente, come cantava Eros, gli ho lasciati di dove eri, ecco, perché settimana scorsa c'era il figodromo, il topodromo, l'epibar era diventato veramente una cosa che dove guardavi, guardavi, c'era topa. Stasera devo dire che siamo entrati, vabbè, le bariste avrebbero fatto felice il rappresentante della Granarolo, della Parmalat, eccetera, eccetera, vi lascio immaginare il motivo, c'era Cuoricina e c'era anche Catwoman, poi, vabbè, c'era il nostro amico Max, simpatico, ma sinceramente noi preferiamo la topa, quindi, vabbè, c'era Cuoricina e Catwoman era sempre un bel vedere, poi, però, poca roba, poca roba, poi si è animato un attimino verso la fine della serata, sono arrivate un po' di pulzelle, anche di un'età anche abbastanza interessante, torno ai trent'anni, vanno bene, vanno benissimo, però cinque, sei, sette, poca roba, poca roba, settimana scorsa invece c'era, stavamo male, poi stai male, perché vedi, vedi tutto, come diceva Ruffini, quando vedo tutta questa topa mi viene una fame, che metà basta, fortunatamente avevo mangiato prima, quindi non poteva venirmi, quindi stasera devo dire ragazzoli, a parte il buon Ciro che non mi ha segnato, poi non c'era la topa, c'era topa, sì certo va bene, Coricina va benissimo, Catwoman va benissimo, però poi vorremmo anche qualcosina di più, io vorrei di più, io vorrei di più, come cantava quella là più o meno circa quasi, e invece no, purtroppo, stasera è andata così, ci rifaremo probabilmente settimana prossima, anche perché più si avvicina l'estate, più poi si alza il livello topame, poi cominciano ad arrivare gruppi di strangers in the night, e la topona che esagerà, il problema è che poi dopo gli chiedi l'età, e se arrivano a 20 è un miracolo, poi devi parlare in inglese, poi non sanno l'inglese, sanno solo il tedesco, poi c'è quella che non sa il tedesco se è solo l'olandese, perché l'olandese è il francese, c'è quella che parla solo tedesco, c'è quella che parla solo, che cavolo ne so, l'olandese, no, devo dire, le olandesi tendenzialmente sanno sempre l'inglese, le svizzere tedesche parlano solo svizzero tedesco, le tedesche e l'inglese lo sanno discretamente, quindi a regola riesci anche a interagire, però poi quando gli chiedi, oh, what are you, quante anni hai? Dici, va bene, faccio il papà, I am your father, non sono tuo padre, perché o facciamo, come dicevo al mio amico, tutti come Modugno, i maestri di violino, e mi sa che questa battuta la capiscono in pochi, visto che bisogna tornare indietro a quando, a when I was a child, e quindi è a long time ago, tanto tempo fa, anche se sono diversamente giovane purtroppo, è così, avevo circa 6-7 anni quando c'era quella canzone lì, 6-7-8 anni, più o meno, circa quasi, adesso non so se era del 74-75-76, però più o meno, il maestro di violino, ormai faremo così, le conosci, vabbè faccio il maestro di violino, ho capito, quindi ragazzoni, andate così, una serata un po' l'offietta, vedremo sabato prossimo come andrà, adesso vado a vedere come sono andate invece le qualifiche della Formula 1, perché, ahimè, Sky mi ha fatto il tranellone, perché oggi c'era sul televisore, nella continuazione, Gran Premio di Francia, MotoGP, Gran Premio di Francia, MotoGP, Gran Premio di Francia, MotoGP, dicevo, c'è anche il Gran Premio di Francia, minchia, un bordello, e invece è il 14, la settimana prossima, quindi ci potremo dedicare esclusivamente alla Formula 1, al Gran Premio di Miami o no? E poi sarebbe Miami, 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 però molti cosa dicono? Miami, Miami, andiamo a Miami. C'era una vecchia pubblicità, che c'era la mamma, rispondeva al ragazzino a cui faceva ripetizione, e questo gli diceva, come Miami, ma scusa, ma con tutte le lezioni d'inglese ancora Miami, Miami, non Miami, perché si era flashata, ragazzo che viene a ripetizione, madre di figli, eccetera, eccetera, ragazzino di 14, 15 anni, che gli dice Miami, come Miami, Miami, comunque è una vecchia pubblicità, se volete la trovate in giro, non mi ricordo neanche di che prodotto, però c'era appunto sta battuta Miami, come Miami, Miami, comunque, Gran Premio d'America, Miami, prima volta, sarà divertente vedere cosa combina, milo di tifosi, piloti, già ho visto che si è disintegrato Sainz, e si vede che un conto era a guidare sul simulatore, un conto è farlo in pista, l'altro giorno, tra l'altro, ho visto lo speciale di Giorgio Porrasso, Gilles Villeneuve, bellissimo, ve lo consiglio, per chi ha Skype, e comunque, ragazzoli, niente, stasera, la serata è stata un po' così, sì, è arrivata la morettina, ma sta con quello lì, è arrivata la bionda, ma sta con quello là, è arrivata quell'altra, è la figlia della colpa, poi ce n'era un'altra che canta divinamente, ma avrà 22, 23, 24 anni, quindi faccio il maestro di violino, appunto, poi non è che, caruccia, è caruccia, poi c'era altre ragazze, così, che erano lì, c'era anche la rana dalla bocca larga, no, era carina, però con quel visotto così sembrava, ah, le sono la rana dalla bocca larga, carina, carina, sì, anche lei, però. Ci siamo rimasti, Gesù rimas mal, come dico malissimo il milanese, che infatti ci sono i miei amici che mi prendono in giro quando dico Gesù rimas mal, perché comunque pensavamo, come settimana scorsa, di essere relegati nel tavolino in fondo, e poi però avere tutta la visuale del locale, e dopo aver visto la partita, vederci anche un po' di topolignie, e invece di topolignie generano minga, a parte appunto le due bariste, che sono sempre un bel vedere, tutte e due, tutte e due, sera c'era appunto Catwoman e Cuoricina, a volte c'è Bambolotta, a volte c'è la Morrettina Fiorentina, la Morrettina Viola, e poi vedremo se ne arriveranno delle altre, perché ogni due per tre leggo Cercasi Personale, Cercasi Barista, per Happy Bar, è che se le cercano un po' tutti, perché ogni tanto su Facebook c'è la mia amica che mette Cercasi Barista per questo locale, Cercasi Barista, Cercasi Barista, Cercasi, Cercasi, Badanti e Baristi, Badisti e Badanti, Badanti e Baristi, Badanti e Baristi e Baristi, va bene ragazzoli, mi sono dilungato anche troppo, spero di avervi strappato una risata, vi ho ragguagliato sulla seratina, adesso vado a vedere come sono andate le qualifiche, della Formula 1 Gran Premio di Miami, poi ve le metto, tanto poi la gara è questa sera alle 22, quindi c'è tempo, 21, 22 quello che sarà, there is time per poterle pubblicare, anche se va online a mezzogiorno di domenica, non è un problema, non siamo di corsa come al solito, che magari è in Giappone, quindi iniziano alle 8 del mattino, quindi deve essere online prima delle 8, perché sennò non vale più la pena che lo guardate, perché c'è già stata la gara, e non è nell'orario canonico delle 15 del pomeriggio, in cui comunque devi fare in modo che sia online per la mattina dopo. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, spero settimana prossima che vada un attimino meglio, settimana prossima è una settimana importante, poi vi ragguaglierò anche sul resto, e niente, alla prossima, ciao!